Dallo stadio Niedersachsen di Hannover, Italia gana. Oggi sapremo chi siamo. Un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro. C'è Pirlo, libero, potrebbe anche calciare. Lo fa! Il calcio d'angolo, Beppe Bergomi. La morte brava, ha sputtato ancora le 11 giorni sui pezzi davvero. Si sono accormentati dentro l'era di ridore. Palla dietro e Beppe calcia molto bene, scuccia con lo palo. Tito non la vede partire la palla ed è un grande gol. Prova a salire Montani, perde un'altra palla in mezzo. La profondità di Ia Quinta cercata sullo scatto di Guffour. Ia Quinta va via! E' ventissimo Ia Quinta! C'è andato Vincenzo! Ia Quinta! C'è andato Vincenzo! Patillo! Al porto! Gino al vino! C'è andato Vincenzo! Rosco, verde e Rossi! Pirlo! Fanaccio, pupillo! Vediamo che colore è! È rosso! E se ne va sotto la voce, Manzoni! Sale Marco Materazzi può essere una soluzione. Perché loro non giocano a zona, non lo sta marcando nessuno. Palla tagliata, sale Materazzi! Marco! Marco Materazzi! Uno al giro! Uno al giro! Uno al giro! Sì, perché c'è andato Vincenzo 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 Vincenzo! Isaghi! 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 Super! Grazie a tutti. 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 Traversa, traversa, non è gol, non è gol, è gol, è gol, è gol, ha toccato dentro, freccia è in vantaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.